Federico Cicori e Serena Monti, candidati per la lista che è guidata da Giulia Mugnai, amministrative di Figline e Cisa Valdanno. Domenica al voto, quali sono le vostre sensazioni? Le nostre sensazioni sono quelle che abbiamo raccolto per tutta la campagna elettorale. Infatti io volevo fare un appunto. Giulia ha avuto una squadra compatta, forte, ci siamo trovati subito tra candidati. Immediatamente abbiamo trovato quello che era l'anello di congiunzione, uniti dagli stessi valori, anche se provenienti comunque da settori diversi, professionalità diverse, età diverse. Ci siamo trovati e abbiamo iniziato una campagna elettorale, devo dire un po' anomala, io non me l'aspettavo. Siamo andati tra la gente, abbiamo suonato anche i campanelli, abbiamo parlato e abbiamo ascoltato tanto. Quindi le sensazioni sono quelle che le persone comunque ci hanno aperto la porta, hanno parlato. Noi siamo qua, la squadra ci sarà sempre, a prescindere di chi o quanti entreranno in Consiglio Comunale. Chi rimarrà fuori sarà sicuramente a supporto di chi sarà dentro. Le persone abbiamo ascoltato, anche nelle frazioni ci hanno chiesto, noi saremo sempre lì per ascoltarli. Quindi la sensazione è che la gente ha bisogno di essere ascoltata. Questo noi l'abbiamo capito, siamo a disposizione, lo saranno i consiglieri e lo saranno anche i candidati. Questo ora e per i prossimi anni. Mi rifaccio molto a quello che ha detto Serena, perché effettivamente siamo una squadra che ci siamo ritrovati in questo percorso. Abbiamo condiviso tante sensazioni, tante emozioni. Abbiamo portato ognuno a modo nostro tutte le nostre competenze, o perlomeno è quello che si vuole fare. Abbiamo parlato con tantissime persone, abbiamo riscontrato consensi, abbiamo anche riscontrato però qualche dissenso e lì abbiamo dovuto lavorare di più per far capire che comunque siamo persone che hanno a cuore quello che è il benessere dei cittadini, il benessere di figline incisa. Noi prima di essere candidati comunque siamo cittadini e viviamo le stesse sensazioni di tutti, viviamo le problematiche di tutti ed è per questo che abbiamo scelto di scendere in campo e provare a, in qualche modo, ognuno a modo nostro con il proprio sapere, con le proprie conoscenze e con la propria sensibilità a poter cambiare quello che ad oggi non è andato, diciamo così. Io vorrei fare anche un appello per questo ballottaggio, andate a votare principalmente perché ancora il voto è un diritto di pochi, ma per arrivare a averlo si sono consumate molte persone e quando siete lì a votare pensate ai valori, bisogna avere anche un pensiero generale, però ecco il mio appello prima di tutto è andate a votare.